Grazie a tutti. Quindi uso delle cartelle condivise con sistemi Box, Dropbox e Google Drive. Questo per la distribuzione appunto di materiali digitali. Perché è importante avere la possibilità di distribuire materiali digitali? Perché soprattutto nel nostro lavoro sempre più spesso ci troviamo a dover gestire dei file o comunque dei materiali appunto da condividere eventualmente anche con i nostri studenti o con i colleghi. E poterli condividere attraverso l'uso delle cartelle in rete, quindi con sistemi come potrebbe essere appunto il sistema Box, può agevolare tutta una serie di situazioni. Ma vediamo che cos'è e che cosa ci offre il sistema Box. Allora Box permette di condividere dati in rete tra sistemi operativi e dispositivi differenti e offre 5 GB di spazio gratuito. Quindi un sistema che offre la possibilità di memorizzare su server, ovviamente nella nuvola, un certo quantitativo di dati e questi dati avremo modo di condividerli eventualmente anche con altre persone. Le cartelle Box sono accessibili e gestibili anche attraverso un comune browser. L'importante è che il browser abbia un supporto a contenuti in Flash. È tuttavia possibile utilizzare Box anche con specifico software, denominato appunto Box Sync, disponibili per computer, Mac o PC. Box è accessibile anche attraverso speciali apps disponibili per cellulari e tablet provvisti di sistemi operativi diversi, quindi iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry. È possibile, utilizzando anche dispositivi mobili, lavorare sugli stessi archivi che gestiamo con Mac o PC e che abbiamo modo di gestire anche attraverso appunto un comune browser. Come si ottiene un account Box? Allora, il primo passo è accedere al sito www.box.com e iscriversi, quindi effettuare un'operazione di iscrizione. Il comando per iscriversi nella pagina principale del sito Box si trova nella parte alta a destra ed è il comando Sign Up. Una volta cliccato sull'icona appunto evidenziata, possiamo scegliere tra diversi tipi di offerta. Io consiglio di provare ovviamente con l'offerta gratuita che permette appunto, come dicevamo, di memorizzare file fino ad un massimo di 5 GB con dimensione massima di 250 MB per ciascun file caricato appunto in rete. Quindi si cliccherà sull'opzione appunto di registrazione ai servizi gratuiti e che cosa ci verrà richiesto? Ci verrà richiesto di inserire il nostro nome, cognome, una mail, una password, confermare la password ed eventualmente inserire anche il numero di telefono completo. Il servizio storage, punto di memorizzazione, dovrà essere selezionato appunto nella misura di 5 GB con servizio free gratuito. Cliccheremo poi sull'icona per continuare la registrazione e che cosa succederà. Ci verrà recapitata una mail all'indirizzo di posta elettronica che abbiamo dichiarato in precedenza e all'interno di questa mail sarà presente un link che andrà cliccato per confermare appunto la registrazione ai servizi. Una volta confermata la nostra intenzione e ovviamente verificato di conseguenza l'indirizzo di email nella sua autenticità, ci troveremo immediatamente all'interno dell'ambiente box. Sarà aperto il nostro browser, nel caso specifico viene mostrato appunto ciò che si vede in Internet Explorer e potremo iniziare con la configurazione dell'ambiente. Peraltro l'operazione di configurazione è molto molto breve e si ottiene cliccando sull'icona appunto che riporta un ingranaggio e nel menu a tendina che viene mostrato in conseguenza al clic sull'icona precedentemente evidenziata sceglieremo tra le voci di menu impostazioni account. Successivamente si aprirà una nuova pagina all'interno della quale potremo effettuare una serie di personalizzazioni. Io suggerisco di lavorare su due schede. La prima è questa qui, contenuto e condivisione, dove ci verrà chiesto se consentire agli utenti che non stanno collaborando a una cartella di commentare all'interno delle cartelle condivise. Se si vuole appunto accettare dei commenti su materiali condivisi converrà lasciare il segno di spunta all'interno di quella casella che viene evidenziata dalla freccia rossa. Diversamente toglieremo il segno di spunta. Nella parte inferiore della pagina c'è un ulteriore comando per il salvataggio delle impostazioni. Tutto ciò che viene fatto in una cartella condivisa può essere automaticamente notificato via email al proprietario appunto di quella cartella. Per stabilire quali notifiche inviare al proprietario nella sezione appunto notifiche della configurazione di box possiamo scegliere se essere avvisati ogni qualvolta per esempio qualcuno fa un commento, elimina un file qualora abbia l'autorizzazione a farlo oppure possiamo decidere qualora trovassimo troppo invasivo l'insieme di mail, di notifica che il sistema può inviarci possiamo decidere di ricevere solo alcune notifiche e eventualmente eliminare del tutto le notifiche di upload, download, commenti eccetera. Anche qui in fondo alla pagina abbiamo un comando salva che ci permette di confermare appunto le impostazioni che abbiamo dato. Chiaramente io invito tutti poi a vedere anche le altre sezioni delle impostazioni dell'account. Io faccio presente appunto queste due schede perché le ritengo quelle più importanti ma ciascuno poi può personalizzare il sistema secondo le proprie esigenze specifiche. Ecco a questo punto consiglierei di provare ad uscire dal sistema box e rientrarvi. Per uscire sarà sufficiente di nuovo fare clic sull'icona a forma di ingranaggio e selezionare successivamente la voce di menu Esci. Una volta usciti proviamo magari a effettuare un'operazione di login, quindi di ingresso. Ecco, se prima per la registrazione abbiamo cliccato appunto sull'icona Sign Up adesso dobbiamo cliccare sulla sezione immediatamente adiacente appunto evidenziata con la freccia rossa dove troviamo appunto il comando di login. Per entrare nel nostro account sarà sufficiente inserire l'email o l'eventuale username che abbiamo definito nelle impostazioni dell'account, la password di registrazione e cliccare su login. Ci ritroviamo nuovamente all'interno del sistema box e a questo punto possiamo iniziare a caricare dei materiali. Il consiglio è non carichiamo i materiali all'interno di questa sezione se non dopo aver creato delle cartelle. Le cartelle permettono una migliore gestione dei contenuti. Quindi come prima operazione il consiglio è non carichiamo un file ma creiamo una nuova cartella. Quindi clicchiamo sull'icona Nuovo, dopodiché su Nuova cartella. Viene mostrata una finestrella all'interno della quale abbiamo modo di definire il nome della cartella e specificare se questa cartella vogliamo mantenerla privata per il momento oppure vogliamo già invitare altre persone a caricare o scaricare i file. Nel caso specifico, se volessimo invitare collaboratori alla cartella, possiamo semplicemente inserire i loro nomi o indirizzi di email nella sezione che vediamo appunto sotto quella di invita altre persone a caricare o scaricare file. Quindi nell'area di testo scriveremo i loro indirizzi di email. Potremo anche selezionare il livello di operatività, cioè potremo specificare se queste persone hanno diritto a modificare i file o hanno semplicemente la possibilità di visualizzare il contenuto ed eventualmente effettuare dei download. Comunque questa è un'operazione che si può fare anche in un secondo tempo. Clicchiamo poi su Crea cartella e la nostra cartella Materiali è stata creata. Per accedere alla cartella è sufficiente cliccare sul nome della stessa, quindi clicchiamo su Materiali e siamo dentro la nostra cartella. A questo punto possiamo fare che cosa? Possiamo iniziare a caricare all'interno della cartella dei file. Quindi non più comando nuovo, ma comando carica. Il comando carica ci dà la possibilità di caricare uno o più file o di caricare un'intera cartella. Quindi supponiamo di selezionare carica file. Si apre una finestra in cui ci viene data la possibilità di selezionare i file da caricare, quindi scegliamo per esempio un file e viene evidenziato al punto 2 il file quintab.pdf e una volta selezionato il file clicchiamo su Apri. Possiamo usare anche il collegamento Browser File invece che usare il comando carica per navigare all'interno del nostro calcolatore e trasferire uno o più file anche con questo comando. E' del tutto analogo utilizzare il comando carica file o utilizzare il comando browser di file. Ecco, una volta completato l'upload avremo il primo file all'interno della nostra cartella condivisa. Possiamo a questo punto fare che cosa? Possiamo caricare altri file, se vogliamo caricare più file in una sola volta basterà ripetere l'operazione di caricamento tenendo premuto il tasto di comando control mentre si seleziona il file. Ma a questo punto con il file caricato cosa possiamo fare? Ecco, cliccando sull'icona evidenziata da questo quadratino blu con il triangolino bianco si apre un menu a tendina e all'interno di questo menu abbiamo parecchie operazioni. Possiamo visualizzare l'anteprima del file essendo un file pdf e quindi un file conosciuto il sistema cloud legge il pdf per noi e ce lo mostra all'interno di una finestra anche se non abbiamo installato un software specifico sul nostro computer per la lettura dei file pdf. Possiamo effettuare lo scaricamento del file possiamo eventualmente anche scegliere di eliminarlo ma la cosa più interessante è appunto l'opzione di condivisione quindi cliccando sulla voce di menu condividi possiamo scegliere se ottenere un link di collegamento al file oppure inviare questo collegamento direttamente tramite posta elettronica a uno o più destinatari. Se decidiamo di procedere con l'invio del link per il download di un file via email il collegamento al file condiviso verrà proposto attraverso una mail di questo tipo ad esempio docente15 ti ha inviato un file quintab.pdf per accedere a questo file condiviso utilizza il seguente collegamento chi riceverà la mail quindi per visualizzare il nostro file non dovrà fare nient'altro che cliccare su quel collegamento e automaticamente potrà o visualizzare o scaricare il file. Supponiamo a questo punto di aver caricato più file nella cartella materiali immaginiamo non più di voler condividere un singolo file ma di voler condividere tutto il contenuto della cartella come procediamo? Allora, bisogna uscire dalla cartella materiali e per questo qui abbiamo una specie di percorso che ci indica che da tutti i file ci troviamo all'interno della cartella materiali volendo uscire da questa cartella clicchiamo su tutti i file per abbandonarla installiamo in pratica nella radice della nostra struttura di cartelle anche la cartella materiali viene proposta con a fianco sulla destra un'icona blu con un triangolino bianco sopra e a questo punto potete già immaginare quale possa essere la procedura per condividere la cartella quindi si clicca sull'icona blu nel menu a tendina si sceglie la voce condividi e viene aperto un sottomenu dal quale avremo la possibilità di ottenere il collegamento alla cartella oppure di inviarlo via mail a tutta una serie di persone quindi l'opzione condividi permette di ottenere un link per accedere all'intera cartella condivisa questo in pratica è ciò che vedranno coloro che riceveranno da noi il collegamento alla cartella condivisa quindi inserendo all'interno del loro browser perché è ricevuto via mail perché è comunicato in altra forma l'indirizzo della cartella condivisa loro avranno la possibilità di utilizzarne visualizzarne, scaricarne l'intero contenuto eventualmente anche uno, due, tre o una parte dei file contenuti nella cartella non è obbligatorio chiaramente scaricarla tutta alcune note importanti conoscere il link ad una cartella condivisa permette di scaricare i materiali in essa contenuti ma non permette questo è un particolare molto importante non permette il caricamento di materiali nuovi per l'operazione di modifica dei contenuti è necessario autenticarsi o come proprietari della cartella o eventualmente come collaboratori autorizzati dal proprietario ad inserire, a modificare nuovi file quindi abbiamo anche un buon livello di sicurezza possiamo invitare eventuali collaboratori ad una cartella operando all'interno dell'area amministrativa del sistema box quindi nella condivisione sceglieremo di invitare tutta una serie di collaboratori a lavorare su una cartella questi collaboratori possono essere colleghi possono essere studenti possono essere comunque persone da noi autorizzate e invitate appunto a lavorare all'interno della cartella mediante un invito che viene trasmesso tramite e-mail attraverso le cartelle condivise e la definizione di più collaboratori è dunque possibile far operare più persone sullo stesso insieme di file ecco che qui si iniziano a vedere appunto i vantaggi del cloud uno stesso insieme di file che non è necessario passarsi fisicamente gli uni agli altri basterà comunicare il percorso il collegamento per raggiungere una cartella non è necessario appunto lo scambio fisico dei materiali in esse contenuti e soprattutto poi il link ad una cartella condivisa non cambia nel tempo sarà dunque sufficiente comunicarlo una volta sola inoltre una cartella condivisa con il sistema box è integrabile anche all'interno di una pagina di un sito internet visto dal lato appunto dei docenti in questo modo ogni docente con il sistema box ha modo di inserire nella propria pagina personale del sito scolastico una o più cartelle condivise con questo sistema fino a qui ci sono delle domande sì ci sono varie domande quindi se vuoi iniziamo dalle ultime con la speranza che poi via via a distanza col tempo in cui sono state fatte tu riesca ad inquadrarle nello scenario in cui sono state poste allora l'ultima è l'ora mentre sono concentrato non riesco a leggere tutti gli interventi nella chat siamo d'accordo così e quindi allora Lorena l'ultima patta è sistema embed di cui è l'ultima cosa di cui stavo parlando sì si inserisce all'interno con un piccolo codice che adesso vedremo bene Elisabetta chiede coloro che collabora collaborano su Box devono avere un account su Box o non è indispensabile sì meglio che lo abbiano sì per essere riconosciuti chiaramente con una password altrimenti dobbiamo dare la nostra penso che c'è la risposta a Anna che chiede dopo aver accettato l'invito bisogna autenticarsi sì quindi sì bisogna creare un account il sistema stesso dice crea un tuo accesso personale poi nel momento in cui la mail che viene fornita ai server appunto che gestiscono questo sistema di cartelle condivise coincide con l'indirizzo di posta elettronica dei collaboratori ecco che questi diventano effettivi partecipanti alla condivisione e alla modifica eventualmente dei file di una cartella condivisa e l'inter proprio adesso chiede vero che l'uso di box esclude la dropbox assolutamente no possono essere usati insieme tutt'al più vorrei dire che si hanno due sistemi di condivisione indipendenti e possono coesistere anche sullo stesso computer i sincronizzatori software di cui parleremo tra poco scusa perché stanno fiocando le domande Lorena dice avevo chiesto prima se è consigliabile sincronizzare o meno sincronizzare o meno sul proprio calcolatore e beh lì dipende qual è la frequenza di modifiche che si prevede di effettuare sul proprio pc attraverso il proprio pc dei file condivisi in rete e volendo rispondere invece all'altra domanda di Simona apertura file senza aver installato il software su pc che tipi pdf doc powerpoint excel proprio quelli i più importanti allora domanda sciocca stai leggendo l'ultima allora nel caso di allunni collaboratori minorenni fortunatamente formalmente non ci sono problemi o come per altri siti ci vuole un'utenza di maggiorenni ben consapevole che è tutto relativo beh intanto chiaramente nel momento in cui ci si iscrive al sistema il sistema non chiede la carta di identità poi se attiviamo il sistema di notifiche e ovviamente siamo noi ad invitare eventuali minorenni quindi studenti a lavorare all'interno di una cartella è ovvio che siamo noi a invitarli siamo noi a inserire il loro indirizzo di posta elettronica quindi non ci possono essere dei furbacchioni che arrivano e si vogliono diciamo così intromettere nella cartella e quindi lavorare al posto di altri ecco e per quanto riguarda Edita torna la carica e dice e allora perché da iPad mi dà la preferenza in inbox allora perché da iPad mi dà la preferenza a box ma dipende io ho visto che su iPad ci sono parecchie applicazioni che aprono automaticamente i file in Dropbox altre che comunque li aprono anche in box la differenza fra box e Dropbox diciamo che non è così evidente ci sono appunto delle sottigliezze ad esempio io ho fatto degli esperimenti Dropbox non permette l'inserimento all'interno di una pagina di un altro sito di una pagina di contenuti Dropbox almeno io personalmente non ci sono riuscito bisogna aprire la pagina una nuova finestra box permette l'inserimento di questo modulo che adesso vedremo e che è molto molto comodo lo spazio lo spazio offerto da box è più facilmente incrementabile rispetto a Dropbox ad esempio dopo aver installato tutta una serie di app sul cellulare sull'iPad eccetera a me è stato regalato il doppio dello spazio inizialmente disponibile quindi io adesso sono a 10 giga perché evidentemente il sistema è un po' più generoso mentre Dropbox chiede tutta una serie di operazioni per aumentare peraltro non di moltissimo lo spazio disponibile poi diventa abbastanza soggettivo ecco c'è chi preferisce box c'è chi preferisce Dropbox io sinceramente preferisco box perché lo vedremo tra un attimo ve lo spiegherò meglio quindi continuerei ci sono altre domande Massimo bene Giuseppe forse hai già risposto ma il sistema box crea una cartella locale e si condizia tutto volendo sì sì volendo sì se si installa il sincronizzatore in caso contrario non è necessario avere una cartella locale si può lavorare esclusivamente in remoto senza installare nulla sul proprio computer Angela ma dove si effettua la scelta della lingua? ma in alcuni casi addirittura è automatica se no nella pagina iniziale www.box.com in fondo c'è una bandierina molto molto piccola viene proposta la lingua di default inglese ma si può cambiare in italiano e da quel momento lì poi il browser si ricorda che si lavora in italiano e non cambia più lingua a parte una nostra specifica intenzione di voler ricambiare in una lingua diversa Simona chiede quali sono la lista di tutti i file che è possibile sfruttare ma i file più comuni appunto a me risulta pdf powerpoint doc excel file di testo tra l'altro nei file di testo semplici se ci sono dei collegamenti ipertestuali il sistema li riconosce li evidenzia come cliccabili i file d'uso più comune poi ricordiamoci sempre che stiamo parlando di un sistema gratuito per esempio anche i file audio gli mp3 sono riconosciuti dal sistema e all'interno del modulo box che tra un po' esamineremo si possono ascoltare in teoria si potrebbero vedere anche i video ma nella versione pro ecco non nella versione free nella versione free elisabetta chiede ma se non abbiamo un backup dei nostri file c'è il pericolo che si possono accidentalmente andare persi per esempio per problemi del server di norma questi sistemi sono abbastanza sicuri perché offrono una memorizzazione ridondante cioè non sono mai memorizzati su un singolo hard disk ma solitamente vengono ripetute appunto le scritture di questi file su più hard disk collegati in modalità ride quindi con una ridondanza per cui se un server dovesse guastarsi non dovrebbero esserci problemi dovrebbe essere un altro server che ha una copia di backup dei nostri dati anche in remoto Anna ritiene molto interessante il sistema delle notifiche puoi dire qualcosa di più il sistema delle notifiche io l'ho provato funziona molto bene nel senso che qualsiasi operazione fosse anche un semplice download viene notificato al proprietario della cartella il problema qual è che se le cartelle condivise vengono utilizzate in maniera piuttosto intensa possiamo essere un pochettino troppo raggiunti da queste notifiche per cui vale la pena un attimo di valutare qual è il reale uso delle cartelle condivise e poi stabilire se attivare tutte una parte delle notifiche oppure chiedere al sistema di inserire tutte le notifiche in un'unica mail da inviare una volta al giorno al proprietario della cartella si può fare anche questo sempre Anna ti chiede consigli per risolvere i suoi problemi che in Dropbox a volte mi spuggono gli inserimenti di nuovi doc nelle cartelle condivise quale può essere la causa? Difficile da rispondere bisognerebbe analizzare il problema direttamente sulla macchina dove si presenta così con questi sintomi mi risulta piuttosto complicato poter dare una risposta che abbia una sua validità Alessandro l'ultimo intervento dice che essendo un sistema online potrebbe essere bucato da attacchi oppure potrebbero verificarsi dei servizi access venied che sicurezza abbiamo per la protezione dei dati ma intanto i nostri dati vengono trasmessi con protocollo HTTPS infatti anche in questo slide si vede che nella parte superiore nella barra degli indirizzi www.box.com file preceduta appunto dall'HTTPS quindi una connessione diciamo protetta gli attacchi beh tutti i sistemi sono soggetti ad attacchi io attualmente non posso garantire che il sistema box o dropbox siano esenti da attacchi sicuramente coloro che li hanno progettati hanno previsto dei sistemi di sicurezza quindi dobbiamo cercare ecco piuttosto se abbiamo intenzione di usare questi sistemi in pubblico di fare molta attenzione a non farci in qualche modo rubare la password a volte soprattutto in classe capita di avere molti studenti intorno questi non penso che vadano poi a fare grossissimi danni ma può sempre diciamo sfuggire una password e di conseguenza poi qualcuno potrebbe utilizzarla per divertirsi un po' ecco questi sono rischi che a mio avviso bisogna cercare di evitare mettendo delle password robuste cambiandole magari con una certa frequenza quindi i soliti accorgimenti validi per tutte le password per tutte le protezioni di quei dati d'accesso a siti o comunque a sistemi che richiedono appunto un'autenticazione bene aspetta un attimo perché c'era un'altra domanda in Dropbox non c'è notifica per email dunque che mi ricordi io non mi pare a meno che ultimamente non abbiano modificato qualcosa ma non non mi sembra dunque Alessandro specifica non sul trasferimento dei dati aspettate perché è cambiato non sul trasferimento dei dati ma sullo storage online quanto riguarda la sicurezza e la privacy dunque la privacy le cartelle possono essere come abbiamo visto prima rese visibili a tutti soltanto ai collaboratori possono essere rese private quindi si possono anche memorizzare dei file e non renderli assolutamente visibili a nessuno il sistema mostrerà questi file solo nel momento in cui accederemo con le nostre credenziali di proprietario di quei file quindi possiamo decidere che cosa rendere pubblico che cosa lasciare privato ok Giuseppe dice che chiede se con box puoi caricare cartelle e sotto cartelle tutti insieme si può fare ok procediamo a questo punto con l'integrazione di una cartella condivisa in una pagina web cosa dobbiamo fare ecco ce lo dice il sistema stesso ci posizioniamo sempre sulla solita icona blu con il triangolino bianco clicchiamo per evidenziare appunto il menu a tendina e scegliamo la condivisione la voce condividi questa voce apre un sottomenu dove troviamo la voce di menu incorpora la cartella nel tuo sito cliccando su questo collegamento si apre una finestra dove viene fornito il codice da incorporare all'interno delle pagine web che vogliamo utilizzare per ospitare appunto il modulo box nella finestra quindi che apparirà sul nostro monitor sarà indicato il breve codice da incorporare nelle nostre pagine personali e tale codice come abbiamo già detto potrebbe essere anche utilizzato per creare un insieme di materiali condivisi all'interno delle nostre pagine personali di docenti sul sito scolastico comunicandolo all'amministratore del sito il quale non dovrà nient'altro che incollarlo all'interno della nostra pagina ovviamente prima di fornirglielo possiamo decidere le dimensioni della finestra box quindi dimensioni medie dimensioni diciamo più contenute o più allargate e scegliere il tema se vedere la finestra con bordi blu oppure cambiare colore alla finestra stessa possiamo scegliere anche l'ordinamento dei file che potrebbe essere un ordinamento per nome per data quindi automaticamente intervenendo sugli elementi che abbiamo citato il codice viene automaticamente generato dal sistema noi dovremo copiarlo fornirlo a chi di dovere o provvedere noi stessi al suo inserimento nelle nostre pagine e avremo modo di incorporare appunto il modulo box un esempio si può vedere sul sito della mia scuola www.istitutoparodi.it dove nella sezione materiali un insieme di docenti ha inserito nelle proprie pagine web questo modulo box e il risultato è quello che state vedendo adesso sul vostro monitor quindi nel contesto del sito scolastico e della propria pagina personale può essere inserito questo modulo box ma questo modulo box non è soltanto un modulo di esclusiva lettura o download dei file si può proprio lavorare sui file infatti anche qui avete notato che nella parte superiore destra c'è la solita iconcina con l'ingranaggio quindi cliccando sull'ingranaggio potremo fare qualcosa però prima di procedere appunto ricordo che cliccando sul nome di un file di un formato comune quindi powerpoint doc pdf excel mp3 è possibile consultare il file in una comoda anteprima direttamente nella finestra box attraverso invece il comando download è possibile scaricare il file condiviso ecco un esempio della finestra di anteprima cliccando sul file parabole xlsx quindi un file di excel il file viene mostrato nella finestra di anteprima e tra l'altro questa finestra di anteprima offre la possibilità di ingrandire quindi c'è un cursore per ingrandire appunto il file visualizzato pulsanti per la rotazione per la stampa del documento e un pulsante molto importantissimo passaggio a schermo intero perché è importante immaginiamo di lavorare su una lim immaginiamo quindi di voler mostrare il contenuto di una presentazione powerpoint senza avere powerpoint installato fisicamente sul computer collegato alla lim il sistema box messo appunto a schermo intero ci permetterà di visualizzare la presentazione powerpoint e questo qui direi che è già un bel vantaggio come dicevamo per operare sulle cartelle è possibile anche lavorare direttamente nel modulo box si clicca sull'ingranaggio si clicca poi sulla voce login si accede alla finestra per l'accesso si clicca successivamente su secure login si inseriscono email e password fornita in fase di registrazione login e ad autenticazione avvenuta è ancora richiesta una semplice operazione di sicurezza per essere certi che non è una macchina ad aver inserito email e password e per tentativi magari ha anche azzeccato un accesso ma c'è proprio una persona che effettua un'operazione di trascinamento e questa è un'ulteriore operazione che garantisce un buon livello di sicurezza nell'accesso ai contenuti dopo login sono quindi disponibili ulteriori comandi i comandi che permettono l'upload dei file c'è questa iconcina appunto con la freccia in alto evidenziata nella parte alta del vostro monitor a destra e anche nel riquadro sottostante a sinistra invece cliccando sull'icona col simbolo più si apre un menu che permette di creare nuove cartelle e creare anche nuovi documenti quindi nuovi documenti web nuovi segnalibri google doc fogli di calcolo eccetera abbiamo anche la possibilità di accedere ad un ulteriore menu di opzioni la cosa molto comoda che deriva appunto nell'uso di questo modulo box che cliccando sul quadratino posto a lato del nome di un oggetto file o cartella che sia oltre che selezionare lo stesso oggetto si attiva automaticamente un menu con appositi comandi per operare su quanto selezionato i comandi sono appunto comandi di scaricamento invio di nuovo materiale tag sposta copia o addirittura eliminazione quindi non siamo obbligati con questo modulo ad entrare nell'area amministrativa che abbiamo visto in precedenza possiamo lavorare direttamente con il modulo per effettuare le operazioni più comuni sui file ecco cliccando sul solito comando blu con il triangolino bianco ritroviamo comunque il menu che abbiamo già visto nel nella parte precedente quindi anteprima download carica nuova versione condividi proprietà da file sposto copia elimina e così via possibilità anche di inserire dei commenti cliccando sul tasto evidenziato nella diapositiva che stiamo osservando e questi commenti potrebbero essere delle indicazioni da dare agli studenti oppure eventualmente anche compiti da svolgere con il contenuto dello specifico file cosa vorrei fare per concludere la sessione di lavoro anche qui operazione semplicissima si fa clic sull'ingranaggio e si sceglie poi il comando esci e quindi si effettua l'operazione di logout è possibile gestire le cartelle condivise senza usare un browser l'abbiamo già detto si attraverso il programma di sincronizzazione si chiama box sync una volta installato questo programma sul nostro computer avremo la possibilità di aggiungere file rimuovere file creare nuove cartelle rimuovere cartelle esistenti perché tutto quello che faremo sul nostro computer in realtà lo faremo su una copia locale dei contenuti nella nuvola e il programma di sincronizzazione provvederà ovviamente a sincronizzare tutto ciò che faremo sul nostro calcolatore con tutto ciò che si trova nel sistema remoto succede anche il contrario quindi tutto ciò che facciamo all'interno del modulo box o tramite browser verrà sincronizzato anche sul nostro computer praticamente viene tenuta traccia dell'ultima azione e l'ultima azione viene riflessa su tutto ciò che va a insistere sulle cartelle condivise sulle quali l'azione è stata svolta come ottenere box sync facilissimo si entra nell'area amministrativa quindi usiamo il browser facciamo il login all'interno proprio del sito box clicchiamo sull'icona con l'ingranaggio e notiamo che nel menu c'è un collegamento ottieni box sync cliccando qui si ha la possibilità di accedere ad una pagina di download dalla quale scaricare l'installer e l'installer per la verità è un programma che è molto leggero 757 kilobyte nel caso appunto di sistemi operativi windows provvede automaticamente a scaricare l'insieme di file per l'installazione completa del box sync una volta effettuato questo download viene chiesto di procedere con l'installazione cliccando su next nella prima finestra che viene mostrata nella finestra successiva dovremo accettare appunto i termini di licenza d'uso una volta effettuata l'accettazione clicchiamo nuovamente su next attendiamo il completamento dell'installazione clicchiamo su finish cosa dovremo fare dovremo inserire successivamente la nostra email e la nostra password per poter iniziare appunto a scaricare come prima operazione tutto ciò che abbiamo precedentemente inserito nelle cartelle remote verrà quindi creata una copia locale di queste cartelle e tutto ciò che faremo sulla copia locale si rifletterà in remoto la cartella locale può essere raggiunta attraverso un collegamento che viene automaticamente inserito nel nostro desktop molto facile lavorare sulla cartella locale e interpretare appunto i messaggi che questa ci fornisce una piccola icona blu circolare vuol dire che il file è sincronizzato invece un'iconcina aggiuntiva circolare arancione con questo simbolo vuol dire con queste due frecce vuol dire che il file è in fase di sincronizzazione quindi dovremo attendere la sua sincronizzazione per poterlo considerare sincronizzato le applicazioni box per i dispositivi mobili esistono per iphone esistono per ipad e sono ovviamente scaricabili dall'app store esistono anche per prodotti come abbiamo già detto con sistema operativo android anche all'interno di queste app è possibile avere l'anteprima dei contenuti dei file più comuni ed è possibile lavorare in download upload cancellazione di contenuti in remoto direttamente dall'app questa è una schermata che mostra l'app per ipad nel caso specifico ecco viene mostrato un programma in linguaggio C che essendo in realtà contenuto in un file di testo anche se a estensione C viene correttamente mostrato in quanto appunto file di testo per cui è un'applicazione comunque abbastanza valida ecco non si lascia ingannare facilmente da un'estensione cioè prova comunque ad aprire i file e mostrarne il contenuto servizi come Dropbox Google Drive SugarSync SkyDrive fondamentalmente non sono poi molto diversi dal sistema box che abbiamo visto fino ad ora e abbiamo già avuto modo di esaminare con le vostre domande tutta una serie di analogie tutta una serie di differenze l'invito qual è è quello di provare voi stessi a lavorare con queste cartelle box provare a attivare account anche in Dropbox Google Drive anche per Dropbox anche per Google Drive ci sono i sincronizzatori la stessa cosa dicasi per SkyDrive ci sono delle app per dispositivi mobili quindi fondamentalmente la modalità operativa anche con questi sistemi non è tutto sommato molto diversa io mi trovo molto bene con i sistemi box però come abbiamo già detto prima possiamo usare anche contemporaneamente box e Dropbox non ci sono problemi ecco prima di passare hai lì nella nuvola a questo punto chiederei se ci sono altre domande completamente di quello che è già stato detto Pio all'inizio diceva si può rendere pubblico in solo lettura dunque ci sono dei permessi avanzati che permettono la possibilità di pubblicare in solo lettura oppure solo alcuni possono scaricare un file tra i collaboratori altri è possibile definire che non hanno alcuna possibilità di scaricamento ma solamente di consultazione purtroppo però queste sono funzionalità della versione diciamo professionale quindi la versione di box a pagamento poi successivamente sto sperimentando box e nel tentativo di caricare cartelle esce questa scritta sembra che il browser non includa java è colpa forse di chrome domanda da 100 dollari questa qui di nuovo è una domanda molto interessante perché bisognerebbe vedere un pochettino come è configurata la macchina io non trovo difficoltà a lavorare con chrome con internet explorer o con altri browser con il sistema box evidentemente potrebbe esserci davvero qualche piccola incompatibilità ma non tanto generata dal browser quanto generata da una configurazione particolare sul computer specifico in questi casi io consiglio di provare a vedere se lo stesso browser magari utilizzato su un'altra macchina presenta lo stesso problema oppure no nel qual caso converrà fare un'analisi sul nostro computer oppure segnalare eventualmente l'anomalia se questa ha modo di ripetersi anche su macchine diverse ok hai confermato che su Dropbox non ci sia editor dunque non non mi risulta a meno che non si installino delle applicazioni aggiuntive quindi con applicazioni aggiuntive potrebbe essere possibile dici e anche lì poi non escludo che queste applicazioni aggiuntive comportino eventuali pagamenti Giuseppe chiede vuole essere assicurata sul tracciamento dei download dunque il download chiaramente viene tracciato nella maniera più efficace se viene offerta possibilità di download solo ed esclusivamente a utenti autenticati quindi a collaboratori che per effettuare download devono inserire quindi un user id che potrebbe essere il loro indiritto di posta elettronica ed una password chiaramente se si offre la possibilità di scaricare il file chiedendo il tracciamento e questa possibilità è offerta a un utente qualunque il sistema avrà modo di informare del download ma non potrà dire chi effettivamente l'ha scaricato ecco mentre Simona conferma che Dropbox è gratuito non ha editor si chiede si può lavorare a più mani c'è un colore diverso per ogni utente c'è non c'è un colore diverso per ogni utente diciamo che però le operazioni dei singoli utenti il proprietario della cartella ha modo di visualizzarli c'è poi una specie di file di registro che tiene traccia di tutte le modifiche addirittura si possono recuperare da un cestino che c'è all'interno del sistema eventuali file cancellati per sbaglio da utenti che non dovevano effettuare cancellazioni quindi ci sono anche dei sistemi per ripristinare file eliminati per errore qual è diciamo quale editor è consigliato a usare no quale sistema tipo internet explorer mozilla chrome quale è consigliato usare in questi casi ma io mi trovo bene con firefox però non ho rilevato particolari problemi con internet explorer né tantomeno con chrome chrome dialoga molto meglio con google drive chiaramente perché c'è una certa parentela ecco con i sistemi di google però infatti giuseppe dice sostiene che in google drive per caricare cartelle sotto cartelle vuole chrome eh sì perché è di proprietà naturalmente è un marchio la famiglia è quella